Se un pezzo non c'è, sicuramente non si romperà, come diceva più o meno un certo Henry Ford, quasi un secolo fa. Probabilmente alla Ford hanno cambiato idea, visto che il cavetto reggitappo del serbatoio si è spezzato. Dunque, o provo i consigli della buonanima di Henry Ford, eliminando del tutto il pezzo. Oppure, da grezzo uomo delle vallate molisane, armato di rudimentari attrezzi, procedo al rattoppo definitivo. Bypassata la giunzione, è creato un foro nel gancio nel quale inserire il cavetto rimanente preventivamente spalmato di cold al caldo. Il rattoppo è pronto per tirare avanti a tempo indeterminato. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 A presto! 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 A presto!